Il capitano del Vever Emanuele Arienti, una stagione come si commenta? Tribolata direi. Molto, partita un po' così e così, però finita alla grande, conclusa alla grande. Come mai secondo te ci sono stati tutti questi problemi durante il campionato? Secondo me siamo stati molto sfortunati, abbiamo avuto periodi neri dove non abbiamo fatto punti e per me sono stati sfortunati in tante partite, dove potevamo magari vincere invece abbiamo pareggiato, quando potevamo pareggiare abbiamo perso e a fine campionato i punti contano. Esattamente, invece ti faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto agli altri, cosa è successo invece nella partita di ritorno dei play-out? Ma sai, ormai non avevamo niente da perdere, quindi siamo andati là, abbiamo detto cerchiamo di fare la partita, mi è andato tutto e è andata bene, a vivere è andata bene. Sicuramente, adesso invece parliamo, vista che è arrivata la salvezza, di questa estate, cosa succederà e cosa ti auguri che succeda a settembre se tu resterai qui a Verdello? Ormai sei una bandiera. Boh, si vedrà. Doviamo ancora parlare con la società, quindi è ancora tutto da vedere, anche i programmi della società, è ancora tutto da decidere. Un applauso.